Raffaella Nattu, giudice onorario Tribunale di Crotone. Siamo qui per manifestare per la tutela dei nostri diritti che ci sono stati negati con la riforma Orlando perché noi siamo dei lavoratori, dei precari dello Stato a cui non vengono riconosciuti i diritti basilari e fondamentali quali quelli i diritti pensionistici dall'assistenza alla maternità alla malattia e parecchi colleghi in questo periodo di Covid sono ammalati e sono morti e non è stato riconosciuto nessun diritto. Noi riconosciamo i diritti per tutti i lavoratori e per noi lo Stato non riconosce nessun diritto e quindi questo silenzio assordante del governo, delle istituzioni ci ha costretti a scioperare e addirittura ad alcuni colleghi a fare lo sciopero della fame.